Il tasso di rinnovazione giovanile è a 44%, il tasso generale tra adulti e giovani è a 30%. Il debito pubblico si è periodo di dilatato, portandosi da 2.134 miliardi a 2.169 miliardi. Il prodotto interno lorso è costante, non sa le recente, mentre aumenta il tasso di disoccupazione. Questo è il problema. Bisogna abolire Equitalia, proposta di legge del movimento 5 Stelle per l'abolizione di Equitalia sovrastruttura da rassitaria che impone agi, more e interessi crescenti ai poteri cittadini che per tempo non riescono a pagare le tasse. Bisogna generare gli interessi, bisogna eliminare Equitalia, trasferire tutte le competenze di personale da Equitalia all'Agenzia delle Entrate. Questa è la nostra proposta di legge. E' sabato, andiamo tutti a Piazza Municipio a contestare lo spaccone Renzi, un pescone che dice solamente Puccine, sta prendendo in giro al popolo italiano. Svegliatevi, andiamo tutti a Piazza Municipio, con Bernacchia, Fischi, andiamo a fischiare lo spaccone. Svegliatevi, Piazza Municipio, sabato 16 andrà, l'ennesima volta, a tagliare il nastro, ma tagliando solamente i nastri e basta lo spaccone di Renzi, è solo propaganda e basta. Svegliatevi, Piazza Municipio, viene solamente andato in giro al paio del cazzo, a fare una bella spaccolina, è bella così, però quando ci sono le crisi non è bella così. Viene solamente solo il bello, lo spaccone, il pescone. Viene solamente solo il bello, lo spaccone, sono a spaccare i nastri e basta. Andiamo a casa con tutti i suoi. Cittadini, firmiamo, firmiamo per il reddito di cittadinanza. ai disoccupati, ai pensionati, ai soggetti più indigenti della società. Firmiamo, firmiamo al banco. Firmiamo per un'aeree di auto che sia equa, con una giusta pubblica agevolata che va nel contro ai redditi minimi e ai disattivisti dei forti. Ciao, ciao. Queste le nostre proposte di Genze. Questa sera, incazziamo, la saranno, ora non so, di Naro, tutte le ore e le ore e le ore. No, no. Avate buono. Avate buono. Avate buono. Avate buono. Avate buono. Avate buono. Siamo in un momento critico alla campagna elettorale. Siamo qui a Piazza Garibaldi in una lotta continua. Allora, per me che gliela faccio io, gliela faccio io. Ssssssssssssssssss. E se te la meriti, te la meriti. Stai per noi. No, me la prendiamo a noi. Sì, secondo te, Pagino. Sì, sì. No, devi fare poco, poi devi staccare. Poco. A te, quando ci piace, a te come c'è? Vado qua, vuoi? Non ti rincai. No! Non ti rincai, 送ori povaluation di trenti. Vol'viército a noi! Oh vi rincai! Grazie a tutti.